Giuseppe Provenza ha annunciato in una conferenza stampa convocata ad hoc le dimissioni da coordinatore cittadino di Forza Italia. Una decisione, quella dell'ex assessore, figlia della necessità di tornare a fare politica, come lui stesso ha affermato, legata anche ad una bocciatura in toto dell'esperienza amministrativa di Cecilia Francese. Mi dimetto per fare politica, può sembrare una contraddizione, un paradosso, ma non è così, perché la situazione è un po' di ambiguità in cui si è trovato il mio partito in questi ultimi mesi, non poteva essere, non poteva andare avanti. L'ambiguità non fa per me, non mi appartiene, faccio politica per la gente, in mezzo alla gente, nell'interesse della comunità, continuo a farlo, ritenevo giusto che il partito di Forza Italia, visti gli eventi e quanto di dannoso e fallimentare, sta producendo questa amministrazione, ripeto, ritenevo giusto ed opportuno che andasse all'opposizione. Purtroppo i consiglieri comunali hanno altri interessi, evidentemente non seguono la linea di partito, questa situazione imbarazzante non poteva frutarsi più, quindi ritengo opportuno sciogliere, staccare la spina e farmi da parte. Mi faccio da parte, però ripeto, mi faccio da parte per fare politica liberamente, come sono sempre stato, uomo libero, chiaro, preciso e continuerò in questa direzione, nell'interesse della comunità. Futuro del centro-destra, secondo lei, quale? Siamo in contatto con gli altri uomini del centro-destra, però da qui si chiude una pagina e se ne apre un'altra. Vedremo, innanzitutto, con degli amici che mi spingono a continuare in questa avventura, partiremo con un'associazione, poi ci confronteremo con chi fa parte del centro-destra per cercare di creare un'alternativa a questa amministrazione fallimentare. Anzi, colgo l'occasione per fare un appello per invitare la sindaca, perché è evidente che ci ha approvata ad amministrare questa città, ma è evidente ed è conclamata la sua incapacità ad amministrare. Quindi, sindaca, io ti invito a fare un passo indietro, faccio un regale per questa fine dell'anno, l'inizio per l'epifania, insomma, quando ritieni prima possibile opportuno, dimettiti, perché i danni che stai producendo si ripercuotono negli anni a venire per tutta la comunità battipagliese. È giusto mettere un punto, quindi io ribalto quello che si intendeva e si diceva in passato, che meglio il peggior sindaco che un commissario. Guardate, al peggio di questa amministrazione veramente non c'è fine, per cui io ritengo meglio un commissario per pochi mesi che continuare con questa sindaca. Il centro-destra deve ripartire dai partiti. Oggi sono qui dall'amico Provenza, ancora oggi commissario cittadino di Forza Italia, e lo vengo ad ascoltare perché l'ipotesi di lavoro in questa città credo sia di riportare la politica, sia quella di riportare i partiti. Noi ci troviamo di fronte ad un'amministrazione che essenzialmente è civica, ma direi di sinistra, nonostante abbia beneficiato in campagna elettorale dei partiti della coalizione di centro-destra. E mi riferisco al primo turno a Forza Italia e Rivoluzione Cristiana, e poi al secondo turno l'appoggio determinante del mio gruppo politico, civico, ma non solo, ma anche e soprattutto quello di Fratelli d'Italia. L'intesa era quella di portare un'amministrazione di centro-destra, perché così era partita al primo turno, e invece oggi ci troviamo che le forze politiche, gli uomini veri di centro-destra, più che le forze politiche se la vogliamo dire tutta, si trovano fuori. Quelli invece che hanno approfittato, per così dire, delle candidature nei gruppi politici di centro-destra, si trovano in qualche modo civici e rilasciati all'interno di un'amministrazione che è civica, ma ripeto, è di centro-sinistra.